L'Axham Flowers ASMR Ciao e benvenuto. Benvenuto in questo video. Oggi sono felice di condividere con te un quaderno a cui tengo tantissimo. E' un quaderno molto speciale. Si chiama Lettere a te stesso. E' un quaderno diverso dagli altri. Ogni pagina è una lettera che tu scrivi a te stesso. Puoi mettere la data di oggi e la data in cui dovrai aprirla. Voglio leggerti qualche pagina di questo quaderno e magari darti qualche spunto per poterle scrivere queste lettere a te stesso. La prima si intitola Le mie radici. Qui puoi scrivere come si chiama la tua scuola elementare che hai frequentato. Puoi scrivere qual era il tuo giocattolo preferito quando eri piccolo. Puoi scrivere il nome della tua prima fidanzata o del fidanzato. Puoi scrivere la città dove sei nato. Come erano fatte le cose intorno a te che scoprivi giorno dopo giorno. La seconda lettera sono i tuoi obiettivi. Oggi puoi definire degli obiettivi che vorresti realizzare nei prossimi anni. Magari raggiungere un titolo di studio particolare. Viaggiare intorno al mondo. Avere una famiglia. Comprarti il tuo strumento musicale preferito e imparare a suonarla. Quali sono questi obiettivi? Se li scrivi oggi puoi decidere una data molto lontana. in cui vorresti che fossero realizzati. La terza pagina si intitola Quello per cui vale la pena vivere. Cos'è oggi quello per cui vale la pena vivere per te? Può essere un'idea. Può essere un'emozione. Può essere un'idea. Può essere una persona. Potrebbe essere il tuo lavoro. O la tua passione. La quarta pagina. Il tuo giorno perfetto. Il tuo giorno perfetto. Nel passato. O magari nel presente. E perché no. Nel futuro. Oggi. Come vorresti alzarti. Che cosa vorresti fare. Oggi. Come vorresti alzarti. Quanti obiettivi. Quanti obiettivi vorresti raggiungere. Quali sono quelle piccole cose. Che rendono il tuo giorno perfetto. Per esempio per me. Alzarmi la mattina. Con il sole forte. Che mi scalda il viso. Farmi una doccia decontratturante. Calda. Fare una colazione. Con la frutta. Bere molta acqua. Nel pomeriggio. Fare tanto sport. Divertirmi con gli amici. La sera. Stare con le persone che amo. Aiutarle. Se posso. Nei loro problemi. Mi piace. Poter essere utile. E nel mio giorno perfetto. Devo aiutare qualcuno. Che ha bisogno. La prossima pagina. La prossima lettera. Si chiama. Dieci cose. Che vorrei fare prima. Di aprire questa lettera. Questa è un po' particolare. Perché. Possiamo scriverci anche cose assurde. Possiamo metterci. Non so. Viaggiare con il camper. Tirare. Il cavettone in testa a un amico. Correre nudi per la spiaggia. Correre. Andiamo avanti. La prossima. Dieci cose. Che non farò mai. Nella vita. Quali sono queste dieci cose. Io credo che. Una di queste per esempio. Potrebbe essere. Andare al polo sud. Dove fa molto freddo. Piuttosto andrei al polo nord. Potrebbe essere. Fare del male. Alle persone che amo. bere così tanto fino a vomitare. Questo. Non lo farei sicuramente. O meglio. Non lo farei più. Trova le due cose. che non faresti mai nella vita. La prossima lettera. A te stesso. Questo. Si intitola. La persona. Che voglio diventare. Vorresti essere più forte. Più coraggioso. Più bello. Più indipendente. Qual è quella persona. Che prendi. Come punto di riferimento. Oggi. Guarda i suoi aspetti positivi. E vedi. Quali sono. Quelli che vuoi tu. Che oggi. Credi. Che ti manchino. In ogni caso. Approfitto. Per svelarti. Al segreto. Sei già perfetto. Così come sei. Andiamo avanti. Quello che voglio conservare di me. Nonostante tutto. È la prossima lettera. Quello che voglio conservare di me. Potrebbe essere. Non so. La spensieratezza. La voglia di fare tante cose. La voglia di fare tante cose. Cerca di capire. Quali sono. Quelle cose. Che di te. Ti piacciono tantissimo. E le vorrai conservare per sempre. Nonostante tutto. Non è importante. Non è importante. Magari. Che siano. Considerati. Difetti. Se sei. Un po' geloso. Va bene. Se sei a volte. Egoista. E. Pensi che sia più giusto. Pensare a te. Piuttosto che ad altri. In quel momento. va bene. Scegli queste qualità di te. Scegli queste qualità di te. La prossima lettera si chiama Prometto a me stesso. Questa. E' una delle lettere più importanti di questo quaderno. le promesse che noi facciamo a noi stessi. Non possiamo ignorarle nel tempo. Non possiamo trascurarle. trascurarle. Una promessa è una promessa. Nei nostri confronti dobbiamo rispettarle. quali sono le promesse che tu vuoi fare a te stesso oggi. Promesse a cui terrai fede per sempre. Io prometto a me stesso di essere sempre una persona umile e onesta nei confronti degli altri. Prometto a me stesso. Prometto a me stesso di ricordarmi sempre da dove vengo e dove voglio andare. Prometto a me stesso di essere fedele nella parola e soprattutto nell'azione. La prossima lettera si chiama L'amore è. Che cos'è l'amore per te oggi? può essere quel momento in cui uno sguardo si incontra con un altro e sembra che tutto si fermi in quell'istante. L'amore è quella gioia che ha un cane quando rivede il padrone dopo un po' di tempo. Gli salta addosso, gli appaia, scudinza. E insomma, l'amore è i dolci della nonna fatti la domenica o la propria mamma che nonostante le difficoltà è sempre lì vicino al letto quando tu stai male. L'amore è un amico che perdona un altro amico. A questo punto io spero che questo piccolo quaderno possa esservi utile, possa a te aiutare e illuminare. Ti ringrazio, ti ringrazio di cuore per essere stato qui con me. Ti auguro una vita felice. Ti ringrazio, ti ringrazio di cuore.